Federica Balza, che è un ingegnere di Iveco Bus, che ci racconterà un po' di esperienze appunto della sua azienda. Grazie mille, benvenuto. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Io intanto sono Federica Balza, mi occupo all'interno dell'Iveco Bus della diffusione, diciamo, e del dimensionamento e della realizzazione di tutta la parte infrastrutturale per i nostri veicoli delle zero emissioni. Come mai diciamo oltre il veicolo? Perché per noi il concetto di elettromobilità è stato questo, cioè cambiare quello che era l'approccio iniziale della sola vendita dei veicoli. Un approccio transazionale, sono Iveco, sono Bus, produco veicoli, li vendo. E noi cosa facciamo? Abbiamo cambiato e introdotto un nuovo business model dove a questo approccio abbiamo aggiunto una soluzione complementare. Soluzione complementare che significa servizi, significa accompagnare il cliente, significa far dimenticare al cliente tutte le piccole difficoltà, piccole o grandi, che una transizione ad una flotta a zero emissioni comporta. Quindi, che cos'è per noi una soluzione per una mobilità sostenibile? La soluzione è questa, di riuscire ad intercettare il nostro cliente, esserli vicino ed individuare quali sono gli elementi più determinanti e potenzialmente meno efficienti all'interno di una transizione ad una flotta totalmente a zero emissioni. Per esempio, la gestione climatica, il raffrescamento e il riscaldamento di un veicolo all'interno di un veicolo elettrico occupa circa il 20% dell'energia. Questo potrebbe essere un problema e soprattutto rappresenta un costo, perché vuol dire aumentare i pacchi batteria, aumentare il peso nel caso di un trasporto pubblico, diminuirne quindi la capacità degli utenti. Noi ci sediamo con il cliente, cerchiamo di capire esattamente qual è il percorso che devono fare, quali sono le pendenze, quali sono le temperature che andranno ad affrontare, quali sono i tempi di sosta dei loro veicoli necessari per far sì che il loro servizio sia totalmente efficiente ed in tempo, per far sì che il loro investimento nella flotta sia totalmente adeguato e non eccessivo dal punto di vista dei costi operativi e dai costi. Allo stesso modo parliamo di soluzioni di ricarica, ovviamente si tratta di introdurre delle novità, dei sistemi di ricarica, dei sistemi di ricarica che possono essere in deposito, dei sistemi di ricarica che possono essere lungo la linea e questo quindi richiede un'attenta analisi all'interno di quello che devono essere gli obiettivi anche di sostenibilità che le aziende di trasporto pubblico devono raggiungere e quindi utilizzare il minore impatto energetico, il minore consumo energetico per far sì che la flotta comunque possa adempiere all'esercizio necessario. Allo stesso modo si possono trovare delle particolari infrastrutture di ricarica che possono essere particolari dal punto di vista della sicurezza, dello stoccaggio dell'energia, della flessibilità e della dinamicità del rilascio dell'energia in modo tale da poter sempre attivarsi in funzione dei picchi di energia della giornata. Insieme alle soluzioni di ricarica cosa ci sono? Soluzioni software. Ci sono delle soluzioni software che possono aiutare il nostro cliente nella gestione di un deposito, della gestione di una flotta e questo riguarda sia la telematica quindi di una flotta effettiva dei bus, allo stesso tempo di quella di una gestione delle colonie di energia e così anche delle cabine e del monitoraggio di questa energia. Questo è un sistema che noi riusciamo a dare a livello integrato. Questo consente intanto di avere molto chiari i dati dell'energia implicati e allo stesso tempo di consentire al cliente di poter avere un unico punto integrato di valutazione di tutti i parametri di monitoraggio. Non solo soluzioni software quindi c'è anche tutto quello che più banalmente ma con grandi difficoltà molte volte è la progettazione e l'esecuzione di questo progetto. Qui abbiamo dei rappresentanti, l'ingegner Zanini ha parlato prima, siamo noi fornitori di questa soluzione di transizione, di GDT con moltissimi bus elettrici, facciamo parte di un RTI in cui stiamo sviluppando il progetto complessivo di questa città sostanzialmente. Si tratta di avere una sinergia molto particolare perché significa avere molto chiaro il percorso che noi dobbiamo fare, avere molto chiara la direzione in cui vogliamo andare, avere molto chiari gli interlocutori che all'interno di un progetto esecutivo devono esserci, quindi gli enti di distribuzione dell'energia, gli enti comunali, gli enti del verde pubblico e tutti quegli attori che insieme devono concorrere ad autorizzare il rilascio di questo progetto e far sì che tutte le milestone possano essere realizzate correttamente. Questo è qualcosa di cui ci occupiamo strettamente legati al cliente, quindi sedendoci, capendo le esigenze e valutando sempre in corso d'opera qualora dovessero essere fatte alcune modifiche come affrontarla nel migliore dei modi. Quindi ho un po' anticipato quella che era la mia terza slide e queste sono state le sfide di Iveco fondamentalmente. Capire la fattibilità di quanto un nostro cliente potrebbe richiedere in termini di transizione ad una flotta a zero emissioni, coordinare l'offerta e coordinare tutti i gruppi di lavoro che in questa transizione devono concorrere dagli enti pubblici, l'amministrazione ovviamente, l'azienda di trasporto pubblico e non da ultimo anche tutti i dipendenti di queste aziende di trasporto pubblico che ovviamente devono concorrere con le loro idee, i loro pareri all'interno di quello che è stata l'idea e il progetto di realizzazione. Terzo punto è l'esecuzione. L'esecuzione vuol dire, una volta ottenuto il progetto esecutivo, realizzare esattamente quanto ci siamo prefessati. E, ultimo punto molto importante, è la garanzia dell'operatività. Un vero punto importante in questa transizione è che, ad un certo punto, la realizzazione non può ammettere errori e, trattandosi di una flotta elettrica, idrogeno o comunque a zero emissione, implica avere sempre le cariche disponibili, avere sempre la flotta pronta per ripartire. Gli errori sono un po' meno ammissibili. Ivecobus, quindi, cosa fa? Non solo è partner all'interno di questo cambiamento, non solo fornisce soluzioni per le transizioni alle zero emissione, ma guida, altresì, la strada verso questo cambiamento. E come lo fa? La nostra idea è stata quella di avere un ecosistema, un vero e proprio ecosistema. Quindi, come ho detto prima, dall'approccio transazionale della sola vendita dei veicoli ad un approccio complementare di servizi integrati per la transizione alle zero emissione. Quindi noi ci troviamo ad avere un prodotto completo, un full liner, quindi dall'endotermico fino all'idrogeno. Noi possiamo offrire al nostro cliente tutto, ma insieme noi offriamo anche dei servizi. E di servizi, oltre a parametri di monitoraggio in tempo reale, che riguardano sia i veicoli sia le colonnine, sono anche quelli della realtà virtuale. Noi possiamo permettere al nostro cliente di visionare in modo virtuale tutto quello che sarà la simulazione del loro deposito, tutta la simulazione del loro veicolo e tutta la simulazione di quello che sarà la ricarica. Abbiamo uno strumento dedicato. In ultimo, quindi, c'è Energy Mobility Solutions. Io faccio parte di Energy Mobility Solutions e l'Energy Mobility Solutions è questo nuovo business model. Quindi, il servizio integrato che noi possiamo dare ai nostri clienti per la transizione. Dall'inizio, quindi, dall'accompagnare il cliente, dalla prima consulenza, alla progettazione, alla realizzazione, fino all'esecuzione e anche alla manutenzione dei nostri veicoli e delle nostre infrastrutture di ricarica. Questo non siamo soli, ovviamente, perché con noi collaborano. Abbiamo avuto il caso, appunto, di GDT, ma ce ne sono tantissimi altri. Questo business model non è stato assunto soltanto dall'azienda Iveco, ma anche da tutta la nostra rete di dealer, che quindi trovano in noi il punto di riferimento, ma noi troviamo in loro il punto di diffusione di questa competenza e la vicinanza verso il cliente, che è molto più proprio del loro territorio. Concludo, quindi, raccontando, appunto, quello che è stato introdotto dall'ingegner Zanini, in quanto siamo a Torino, diciamo, la realizzazione più importante che ci vede i protagonisti su questo territorio e sicuramente Torino, con 225 bus elettrici, che andranno in consegna, quindi, a partire da quest'anno fino alla fine del 2025. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Sono naturalmente qui per tutti. Grazie.